Biamma, Foggia, Flocari, Sombra... ...su Gattuso, grande giocata di Flocari, esplode il sinistro, si allunga bene Abbiati. Non da lui, da Ibrahemici a metà campo, Lazio può ripartire, la gestione del pallone per la squadra del Milan parte tutto da Ibrahemici, perde appunto la sfera e poi la Lazio riparte bene anche perché Flocari si accenta, riesce a fare questa inottima serata, tranquillo e sicuro. Diego Silva che era in posizione avanzatissima, che non è riuscito a raccogliere, poi Gattuso in pressione, l'intervento regolare era molto vicino a Banti, Sedov, apertura per Boateng, allunga la falcata Boateng.